E' un film girato ad alta quota, tra le montagne innevate lungo il confine tra Francia e Italia. Racconta di un'odissea immigratoria meno conosciuta, eppure vecchia di due secoli, quella delle centinaia di clandestini, un tempo calabresi e siciliani, oggi africani, che sfidano il freddo e anche qui, come in un grande mare bianco, incrociano speranze, morte e solidarietà. E' capitato, nella notte più lunga che abbiamo passato, in mezzo al bosco innevato, che a un certo punto abbiamo semplicemente messo via la camera e abbiamo iniziato a fare quello che dovevamo fare, a essere anche un po' di sostegno a delle persone in difficoltà. Abbiamo attenti, dopo che la verza è qui, dalla neve, sulle montagne, si descende, si è buono. Il film, regista Luigi Dalife, è prodotto dal collettivo SMK Factory di Bologna. E' stato finanziato da una raccolta fondi che ha coinvolto quasi 500 persone ed associazioni. Girato lungo due inverni, passati ad osservare, riprendere, ma anche aiutare, fantasmi notturni che attraversano sentieri e piste da sci. Milky Way, il titolo, la Via Lattea, è il nome del comprensorio sciistico che fa da sfondo al film. Ci ha colpito molto, anche aiutati un po' dal motto di questo comprensorio, che è sciare senza confini.